Essere giovani a Napoli, 200 ragazzi di Scampia, dei quartieri bene, si raccontano una nuova serie della fiction senza filtro. Ci racconta tutto Maria Laura Massa. La storia dell'ordinaria difficoltà di essere giovani a Napoli raccontata dai protagonisti, senza filtro. Si intitola proprio così, senza filtro, Scampia 2007, la seconda edizione della mini fiction documentario che ha visto impegnati come attori, tecnici ed operatori circa 200 ragazzi nel tormentato quartiere della periferia nord di Napoli, ma anche della cosiddetta Napoli bene. Incontro tra diversità soltanto apparenti, la scoperta di una comunanza per sentire tramondi solo pregiudizialmente lontani nella stessa città. Tema centrale è la legalità, tre puntate per la regia di Lello Masucci, idea del suo laboratorio multimediale di teatro interattivo, progetto pilota patrocinato dal Comune di Napoli e dal Ministero dell'Interno. La colonna sonora è affidata ad artisti affermati come 24 Grana, ma anche a band emergenti come la A67 proprio di Scampia. Un linguaggio fresco, semplice ma accattivante, dove si contaminano generi diversi dal video musicale allo spot pubblicitario, passando per il fumetto.